Non siamo stati più considerati, perciò abbiamo voluto fare questa cosa simbolica per risvegliare gli animi e per dire che esistiamo, anche perché è un mondo talmente grande, è il nostro, che non possono non considerarci, perché a livello nazionale ci sono tantissime strutture e in queste strutture ci sono tantissimi collaboratori e se ne è accorto il ministro Spadafora che ha dovuto spendere e cacciare dei soldi per questi collaboratori che sono decine e decine di migliaia di persone, perciò il 18 vogliamo risvegliare gli animi e magari per quella data decidere eventualmente anche una data a livello nazionale di apertura se il ministro Spadafora insieme al ministro Speranza della Salute non ci danno delle indicazioni per l'apertura, visto che noi siamo stati indicati come degli untori, invece non lo siamo, di conseguenza noi abbiamo l'esigenza e dobbiamo assolutamente aprire per la sopravvivenza perché altrimenti molti di queste strutture se non aprono con i primi dell'anno 2021 possono rischiare di rimanere chiusi per tutta la vita.